Mister, siamo nella settimana cruciale secondo me. L'Aragas viene da una squillante vittoria contro il Geraci, aveva preso 4 golle in 12 partite, ne ha preso 3 in una partita e ne aveva prese tra l'altro su calcio da fermo. 3 su ritorno. Esatto, invece ne ha prese 3 su azioni. E il Dattilo viene invece da una sonante sconvitta 3-1 a Canicatti. Questa settimana come la stai preparando? Noi stiamo andando leccandoci ancora le ferite, perché questa è una squadra che sta crescendo, l'avevo già detto anche la partita precedente, quando qualcuno magari ha sottolineato, ma se stiamo migliorando allora perché non vingiamo. Ma siccome io sono abituato, quindi è inutile, bisogna vedere quello che c'è in campo. In campo la squadra si sta mettendo, si è già messa a disposizione fin da subito, oggi diciamo che la squadra ha guadagnato qualcosa in percentuale per quanto riguarda le condizioni generali. Stiamo lavorando dal punto di vista tattico, perché questa squadra è abituata a lavorare in maniera diversa, non bene o peggio, o meglio o peggio, non è diversamente, perché ognuno di noi ha le proprie caratteristiche, ha il proprio modo di vedere, e io prima di vedere il mio modo, vedo il loro, e quindi mi devo adattare prima io a loro, piano piano ci stiamo adattando, e loro a me, a quello che io cerco di chiedere. E quindi piano piano ci stiamo riuscendo, non siamo sicuramente al top, però stiamo crescendo tutti assieme. La partita di domenica ci ha gratificato sicuramente tanto, abbiamo sboccato forse nel momento migliore la partita, e si è messa per il meglio, perché poi loro si sono allargati, le maglie difensive si sono un po' allargate, ci hanno dato qualche altra possibilità di giocata più fluida, e la squadra poi si è anche un po' divertita. E quindi questo è un bene per tutti quanti, per noi che giochiamo, e per quelli che ci guardano dagli spalti, quindi è un bene generale. Però su quello noi ci dobbiamo andare a costruire adesso, il finale di questo giorno d'andata, e poi il giorno di ritorno, che sarà quello che determinerà tutto. Certo, in questo momento, battendo il Geraci, e la partita che viene domenica, sembrerebbe un momento clou, anzi, non sembrerebbe, lo è. Corregimi se sbaglio, nel calcio si va molto per entusiasmo, si va anche a livello psicologico molto spesso, sarebbe importantissimo, corregimi se sbaglio, domenica la partita, vingerla, perché in questo caso, l'Aragas si porterebbe a due vittorie consecutivamente, contro due squadre fortissime, la prima e la terza, e invece, il Dattilo, in due sole giornate, andrebbe a prendere, come dire, due sconvitte, però forse è prematuro parlarne, come la vedi? A parole uno può dire quello che vuole, è chiaro che le indicazioni ci sono, la squadra sta crescendo, il Dattilo ha subito un momento di arresto importante, e a noi probabilmente questo un pochettino ci lascia sperare a una prestazione di una certa importanza, questo sicuramente, quindi si gioca anche su queste piccole cose, si ci gioca anche attorno, approfittando dei momenti, e perché no? Può diventare anche importante, può essere una carta da giocare, però noi dobbiamo essere più equilibrati, e giocarci le carte che abbiamo noi in casa, cioè quello di giocare all'assenetto, di giocare davanti al nostro pubblico, che deve venire numeroso, e facciamo un appello, a questo lo vedranno, lo sanno da soli, i tifosi, se vinci vengono, se non vinci e non diverti non vengono, quindi è inutile mandare messaggi, certo in questo momento, noi avremmo bisogno di qualcosa di più, però loro sicuramente, ce lo metteranno, quindi noi ci auguriamo, di avere un bel contorno, per poterli gratificare ancora, come abbiamo fatto domenica scorsa. Grazie, ciao. Grazie,